Quando si è superato? Quando ci si avvicina ad una maggiore realtà? Commento. Nella condizione umana ci si avvicina ad una maggiore realtà quando si è superato il veicolo chiamato mente, che ad un certo punto dell'evoluzione conduce al misticismo dei cristiani, al sufismo degli islamici e al merkab degli ebrei.